benvenuti a castelvecchio un pittoresco villaggio che sembra uscito direttamente da una fiaba medievale questo posto magico è indiviso in due parti proprio come il desiderio di gustare sia pizza che gelato c'è il vecchio castelvecchio arroccato su una collina che sembra una cartolina d'epoca con i suoi veicoli stretti e muri di pietra che raccontano storie milionarie poi c'è il castelvecchio moderno ai piedi della collina che è come un giovane energico pronto a farsi strada del mondo con solo 700 abitanti castelvecchio è più intimo di una cena romantica a lume di candela ma una storia più ricca di una cassaforte d'oro di un pirata le sue radici risalgono ai tempi delle invasioni barbarie quando la popolazione decise che la collina era il posto migliore per sfuggire ai guai e sì sembra che i barberi abbiano fatto tutti un passo indietro quando hanno visto questa collina ma la vera stela di castelvecchio è l'abbazia di san salvatore di sesto questa non è solo un posto di preghiera è stata talmente prestigioso che chiedeva tasse a migliaia di proprietà agricole persino in corsica l'abbazia ha anche dovuto affrontare un'invasione pisana nel 1313 ma è tornata più forte che mai grazie agli investimenti della repubblica di lucca dimostrando che quando si tratta di difendere il proprio patrimonio castelvecchio è pronto a sfoderare le spade a sfog Hesوم un'argo un'argo Grazie.